Ciao a tutti, io sono Luca e oggi vediamo come installare il GPS su un quadricottero con iNav. Avevo fatto questa guida qualche versione di iNav fa, mi sembra la 2.6, adesso le cose sono leggermente cambiate e quindi facciamo questa guida aggiornata ad iNav 6.0. Allora, oggi ho installato il magnetometro e questo è un quadricottero che già volava bene in agro, quindi oggi non vediamo come configurarlo da zero ma i requisiti sono che il drone già vola in angle, in agro o quello che vi pare. Quindi già lo utilizzate senza GPS e volete solamente installare il GPS. Se per caso volete un video su come configurare iNav da zero, io penso che sia abbastanza facile, però se volete ci faccio un video, quindi su come configurarlo non solamente per il GPS come vedremo oggi ma anche per le funzionalità base come angle e agro, lasciatemi un commento che eventualmente ci faccio un video a parte. Per prima cosa partiamo dalla configurazione hardware. Allora, come vedete il drone ha questa prolunga per il GPS perché dobbiamo evitare che le interferenze elettromagnetiche dati dai cavi della corrente arrivano al magnetometro. Quindi quello che vi consiglio è di installare il magnetometro almeno a 6 cm da fonti di corrente, che possono essere questi, cioè i cavi di corrente o gli ESC. Quello che vi consiglio maggiormente è se voi girate l'ESC e quindi avete i cavi di corrente che vi escono da davanti e quindi avete questa zona qua, diciamo franca, quindi di spazio potete accorciare la coda. Però siccome il mio frame è abbastanza piccolo e non avevo modo di montare l'ESC rigirato, ho dovuto fare questa prolunga lunga. Quindi ricordate almeno 6 cm da fonti di corrente e nel mio caso il magnetometro si trova sulla parte posteriore del GPS. Quindi in effetti qua sono tipo 5 cm da questo cavo, invece qua mi sembra sono 7 cm, quindi così va benissimo. Seconda cosa su come installarlo. Allora nel mio caso l'ho messo dritto, parallelo al flight controller, parallelo al drone. Alcuni preferisco installarlo, diciamo, inclinato di qualche grado. Quello che vi dico alla fine non c'è molta differenza in ricezione, anzi forse installarlo parallelo al flight controller è meglio perché diciamo quando è che a noi ci serve una maggiore ricezione, quando abbiamo appena collegato la lipo e dobbiamo attendere che il GPS agganci i satelliti. E durante questa attesa il drone solitamente lo appoggiamo per terra e quindi mantenendo, installando il GPS in questo modo abbiamo la massima ricezione. Poi è veramente raro che, cioè a me non mi è mai capitato, che mentre andate, siccome il quadricottero si inclina, diciamo si sganciano i satelliti. Quindi quello che vi consiglio è di metterlo parallelo al flight controller, o parallelo diciamo al drone. Quindi abbiamo finito questo preambolo, adesso lo colleghiamo ad iNav Configurator. Allora, eccoci qua sul configuratore e come vedete ovviamente io ho sia la spiega magnetometro e il GPS spenta perché sono da configurare e il resto è acceso. Quindi per prima cosa accendiamo la porta relativa al GPS, quindi andiamo su Ports. Nel mio caso è la UART 5, vi dovete ovviamente ricordare dove avete collegato il GPS. E qua sulla colonna Sensor, semplicemente seleziono GPS e faccio Save and Reboot. Poi abilichiamo anche il magnetometro su Configuration. Qua nella sezione Magnetometer dobbiamo selezionare Auto e riavviare. Allora, qua possiamo vedere una cosa. Il magnetometro è rosso. Perché è rosso? Ci sono alcuni flight controller che si alimentano solamente da USB, come nel mio caso. Il flight controller non alimenta tutte le periferiche, infatti nel mio caso adesso il GPS non sta ricevendo corrente. Quindi devo per forza collegare la lipo. Ovviamente se voi dopo aver fatto questa procedura vedete che il magnetometro è diventato blu, non dovete collegare la lipo. Quindi ho tolto le eliche e collego la lipo. Mi ha scoppiato un motore. Allora, eccomi qua, lipo collegata. Non so perché mi ha fatto una scintilla a un motore. Forse c'era della sporcizia, boh. Però adesso sembra che gira, funziona tutto bene. Comunque ci collegiamo al configuratore, rifacciamo la stessa procedura. Configuration, Auto, riavviamo. Adesso vedete che il magnetometro è diventato blu. Devo abilitare il GPS, quindi, allora, in porta già l'abbiamo abilitato. Vado nella sezione GPS, eccola qua, e abilito GPS. Qua lasciamo Blots. La maggior parte di GPS ormai utilizzano Blots, almeno che non avete un caso particolare. Io Galileo preferisco usarlo. Alla fine sono Satellite in più. Non è, diciamo, una restrizione che usa solamente Galileo. E a posto faccio Save e Reboot. Adesso, vedete, anche l'icona del GPS è diventata blu. Adesso, un'altra cosa che dobbiamo fare è l'allegnamento del magnetometro. E in iNav questa l'avevo fatta io, se vi ricordate, e ho reso questa procedura molto, molto semplice. Allora, innanzitutto, cosa dobbiamo fare? Questo è un BN880, esattamente il mio stesso modello. Io non l'ho montato così, ma l'ho montato col connettore verso il drone. Quindi, quello che devo fare è semplicemente o spostarmi con questi slider, oppure utilizzo anche, diciamo, i preset che già ci sono. Nel mio caso, eccolo qua, CV90P. Eventualmente, riprovate un po', vedete qual è quello che vi soddisfa. Insomma, utilizzate i vari preset. Se per caso avete il magnetometro inclinato, sempre tramite slider lo inclinate come l'avete messo voi. Quindi così, così, come vi pare. Quindi, lo rimetto a CV90Flip, che è come nel mio caso, perché vedete, questo è il GPS e i cavi partono e vanno direttamente al flight controller. E come ho fatto a vedere prima, non è inclinato. Nel caso in cui voi avete il flight controller allineato in una maniera differente da quella di default, semplicemente invece di pensare che questo sia l'immagine del drone, pensate come se questo sia il flight controller. C'è scritto anche qua. Quindi ipotizziamo che voi avete il flight controller sotto sopra, quindi il drone a sua volta è ribaltato rispetto a questa immagine. Poi dovete ribaltare il GPS. Quindi, per esempio, se io avevo il flight controller sotto sopra, dovevo metterlo così. Io ho il flight controller nella posizione di default e quindi va bene questa cosa qua. Quindi faccio save on reboot. Adesso dobbiamo fare la calibrazione del magnetometro. Questa non possiamo farla qua, perché anche ho il computer qua vicino, ci potrebbero essere interferenze, quindi dobbiamo andare a farla fuori. Allora, eccoci qua e vediamo come calibrare il magnetometro. Allora, ecco il drone, collego la lipo. Accendo il radiocomando. Aspetto che il drone sia bimbi. Telemetria disponibile. Drone connesso. Adesso faccio la combinazione di stick. Una volta fatta la combinazione di stick avremo 30 secondi per effettuare la calibrazione. Quello che farò io sarà fare una rotazione sull'asse questo qui, che è l'asse del pitch, una sull'asse del roll e un'altra sull'asse dell'olio. Sicuramente ci metterò meno di 30 secondi, perché abbiamo 30 secondi a disposizione, poi inizierò a muoverlo, diciamo un po' a caso. Allora, la combinazione degli stick avrò la scensola in pressione, ma comunque è questa qui. Trottle alto e io a destra e pitch in basso. Quindi vado. Il drone ha fatto un beep, quindi la calibrazione è iniziata. Quindi, rotazione sul pitch, rotazione sull'olio, rotazione sul roll. Ora mi avanza tempo e inizio a fare rotazione a cavolo, cercando di coprire più o meno tutte le possibili posizioni che può avere il drone. Calibrazione terminata. Adesso dobbiamo salvare la configurazione. Possiamo farlo o collegando il fret controller configuratore e cliccare su un tasto qualsiasi save reboot, oppure possiamo farlo tramite OS. Per farlo tramite SD dobbiamo andare nel menu e abbiamo la voce save reboot. Aspettiamo che si riavvie. Ok, adesso possiamo continuare. Ora verifichiamo se il magnetometro funziona bene. Quindi vado a una scherma da setup, prendiamo il nostro drone, lo puntiamo a nord. Io so che più o meno nord è in quella direzione là. Ovviamente non dobbiamo essere proprio precisi al millimetro. Quindi io lo punto verso nord e vedete questo valore qua, heading, che ha valori che oscillano tra i 360 gradi e i 0 gradi. Adesso, se io ruoto il drone sull'asse del pitch, quindi in questo modo qua, il valore vedete che rimane lo stesso e quindi questo significa che abbiamo fatto una buona calibrazione e allineamento. Stessa cosa se io lo ruoto attorno all'asse del roll. Vedete, io inclinandolo così, più o meno il drone rimane sempre intorno ai 0 gradi. Quindi il magnetometro è calibrato bene. Adesso dobbiamo attivare le modalità di volo. Quindi vado ad una schermata delle modalità, che è questa qua, e io voglio attivare per esempio il position hold e il retard to home. Nel canale 7. Entrambe nel canale 7. Provo a muoverlo. E voglio fare che qui c'è il position hold e qua giù c'è il retard to home. Ok? Allora, quando attiviamo il position hold non c'è bisogno di attivare insieme anche l'alt hold per il mantenimento dell'artitudine, perché questa cosa viene fatta automaticamente. Quindi, attivando solamente il position hold abbiamo sia l'alt hold e anche l'heading hold, cioè il mantenimento dello yo. Nel caso in cui ci sia del vento forte che ci fa ruotare il drone, il position hold ci garantisce anche questo blocco. E quindi faccio save. Poi l'ultima cosa sono gli elementi di OSD. Ovviamente qua vedete voi, ognuno ha le sue preferenze. Ecco, qui iNav già mi segnalava che c'era un errore. Per esempio dovete impostare i satelliti, che è il minimo. Questo qui l'ha fatto automaticamente, mi ha messo le coordinate GPS, che va benissimo. Qui ho la distanza, la velocità, eccetera, eccetera. Va bene così, per adesso li lascio così. Quindi clicco su save. Poi, come ultima cosa, il file safe. Allora, per adesso io il file safe lo lascio su drop, perché prima voglio provare il retart to home manuale, quindi lo attivo io. Poi, una volta che avrò verificato che il retart to home funziona bene, allora setterò il file safe sul retart to home. Allora, volevo inserire in questo video anche come cambiare le varie impostazioni attraverso la schermata di Advanced Tuning. Ma, siccome usciva un video lunghissimo, di tipo oltre mezz'ora, ho preferito dividerlo in due video. Quindi, adesso il retart to home e il position hold dovrebbero funzionare, ma utilizzano le impostazioni default. Se, per caso, voi volete modificare, non so, la velocità del retart to home, la velocità di atterraggio, la velocità del drone che avrà durante il position hold, e cose così, guardate questo video, che, se ancora non è uscito, uscirà la settimana prossima. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!